Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino ha recentemente aperto la quarta e nuova esposizione permanente Lo spettacolo della natura, storie di scienza e di mondi da conservare. Il percorso espositivo si sviluppa su una superficie di circa 1500 metri quadrati, articolato in tre macro aree. La diversità della natura, che accoglie rari reperti del museo, Adattamenti ed evoluzione, composta da due sezioni che fanno scoprire i meccanismi all'origine e alla diversità della vita e la terza dedicata alle foreste del Madagascar. L'ideazione e la direzione del progetto scientifico sono state svolte da Giorgio Celli, il noto etologo, scrittore e divulgatore scientifico italiano scomparso nel giugno del 2011.